benvenuti benvenuti che nemici siamo viti in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like per cui siate generosi con i like oggi andiamo a vedere come poter acquistare il token della juventus prima del listing su binance che avverrà lunedì 21 dicembre alle ore 6 naturalmente per fare questo io ho scaricato cilis quindi mi sono iscritto su questo exchange vedremo anche i pro e contro mi sono registrato per cui dovete registrarvi veramente semplice registrarsi anzi vi lascio anche in descrizione il referral attraverso il quale potete registrarvi per cui è molto semplice e ora andiamo a vedere un po come poter acquistare questo token naturalmente voi vedete qua l'importo io ne ho acquistato un bel po perché ci credo è perché ho fatto tutto ciò prima del listing su binance ovviamente non sono consigli finanziari ma l'ho fatto perché tendenzialmente su binance vediamo che le coin che vengono listate in particolare questo è il token della juventus quindi non è una coin a caso vi faccio degli esempi alfa skl unfi nella soprattutto prima ora hanno un balzo assurdo quindi mi dovrò svegliare alle 6 cercare di prendere questo balzo vendere eventualmente aspetterò il secondo giorno per poi rientrare questa è una strategia che sto studiando ovviamente voi non dovete seguire questa strategia però potrebbe rilevarsi efficace detto questo quindi andiamo a vedere come acquistare questo token io vado su balance wallet quindi andiamo a vedere un po quante ne ho di questi token vedete qui ne avete anche vari cioè su ciliz trovate tutti i token delle varie squadre quindi da roma dell'atletico del barcellona l'indipendente galata sarai juventus ecco di juventus ne ho 50 ora come acquistato questo token vi mostro tutto il procedimento che ho cercato di fare per pagare il meno possibile di fiat cioè di commissioni allora come vedete qui dalla piattaforma vi prendono come monete allora i bnb non li potete depositare per cui niente voglio mandare i bnb naturalmente commissioni bassissime non te le lascia fare ok dopodiché bitcoin è caro perché vi vanno via 3 4 dollari ed è lento ios naturalmente non si può depositare ti pareva e l'unica che rimane è ethereum naturalmente il costo ethereum varia in base alla giornata per cui consiglio che vi do è ad esempio andare su gas tracker ok per vedere quanto costa ethereum oggi una transazione andiamo a vedere voi andate qui su gas tracker selezionate giusto per vedere quando conviene ok oggi ci costa la più veloce 65 centesimi quindi la più conveniente quindi oggi che siamo il 19 dicembre potreste mandare ethereum io ho mandato dollari vabbè ho pagato 3 dollari ma ho mandato importi estremamente elevati per certi per certi no dipende tutto relativo nella vita per cui mi sono preso 50 juventus token ok cose da che non mi sono piaciute allora innanzitutto io ho mandato questi 600 erano 643 ora sono aumentati perché il valore da juventus è aumentato però mi ha messo qui in parte la commissione alta qui su frozen che vuol dire congelato me ne ha messo 240 per un giorno non so perché ma mi ha fatto questa cosa qua e nel mentre il token della juventus saliva cioè se io mando tutto voglio che tu mi dia qui disponibile usdt tutto no che mi metti 240 frozen giorno dopo mi sono svegliato ok erano scongelati e li ho messi oggi primo punto secondo punto ho messo una password inizialmente non gli andava bene mi ha suggerito la loro me la son salvata ok a parte e mi han detto ok mi dava password erata che cosa ho fatto sono andato su forget password e ho inserito diciamo il mio numero di telefono mi ha mandato il messaggino e ho dovuto inserire anche il numero della mia carta identità e dopo ho ripotuto rimettere la mia password che ora semplicemente va bene quindi per questo chiliz oltre alla sicurezza queste sono le cose che non mi sono piaciute però non spaventatevi perché funziona funziona tutto ma ve lo dico per correttezza perché essendo voi mi iscritti ma anche non iscritti mi sembra sempre corretto ora dove potrà arrivare questo token della juve oggi siamo il 19 dicembre non solo consigli finanziari ma vorrei darvi un pronostico secondo me primo giorno listing tra i 50 e i 70 dollari possiamo arrivarci andiamo a vedere quanto un po vale questo questo token e come funziona anche questo questo chiliz ok ok per cui andiamo qui allora un'altra cosa da fare ok mandate dollari supponiamo che mandate dollari cosa voi dovete fare ovviamente chiliz cerca di guadagnarci il più possibile essendo un piccolo exchange allora voi dovete andare se volete acquistare il token prima del listing quindi prima del 21 dicembre ore 6 andate su other pair selezionate selezionate non la prima ma la seconda cambiate ok i vostri dollari io ne ho 10 ora non li cambio però se volete cambiarli naturalmente dovete fare compri chiliz quindi market order se volete acquistarli sul momento il massimo e buy chiliz ok e buy chiliz ok e quindi li avrete una volta che avete i chiliz mi andate su fan token su juve 1302 quindi molto ma molto bene vedete che salita dopo a caso mai facciamo ancora un'analisi del grafico e se volete acquistarlo e se volete acquistarlo voi avete i chiliz quindi mettete il massimo no aspettate eh allora vai su juventus si ok metti il massimo e buy uv giusto giusto ok questo è quello che dovete fare una volta che supponiamo voi siete al primo giorno e la juventus raggiunge che ne so i 50 dollari io ho 50 juventus token come vedete per venderli faccio così e sell juve ok perfetto naturalmente venderete juve per chiliz e dopo dovete cambiare i chiliz in dollari e ve li mandate magari io me li manderò su binance quindi giusto per il primo giorno perché ovviamente binance è molto più sicuro rispetto a chiliz detto questo potete vedere che ci sono appunto varie coin se scrivo anche rom anzi barcellona ok bar naturalmente vale 6.52 il barcellona perché non c'è ancora nessun listing su binance probabilmente dovesse avvenire aumenterà anche qui il valore andiamo a vedere un attimo il grafico della juventus perché è molto interessante e vorrei spiegarvi un po' secondo me perché crescerà il valore ok questo è il grafico della juventus su chiliz e vedete qui che rottura c'è stata questa è una salita assurda perché perché c'è stato l'annuncio di binance che per l'appunto quoterà la juventus all'interno di binance guardate che salita verticale successivamente scarico e stiamo andando ancora su per cui questa sembra una flag vediamo quanto ha fatto ok praticamente in quell'ora nemmeno se 15 minuti scusate in 15 minuti ha fatto tipo il 43 per cento c'è cosa assurda quindi mi sa che quel giorno su binance mi devo prendere alle 6 di mattina e se mi fa una roba simile si vende ok ho detto questo penso che questi prezzi non torneranno più spero vediamo che è fortemente bull in questo momento il juventus stock è anche sulla spinta del bitcoin per cui cosa volete che vi dica speriamo bene per questo juventus token ogni tanto arrivano anche queste belle notizie naturalmente se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale lascia un bel like e ci vediamo presto